Se in un secondo esce fuori un joule attraverso questo immaginate, tanto per fissare l'idea che questo fosse un centesimo dell'area della sfera cosa che non è vero, è molto più piccolo mi pare perché un angstrom è 10 alla meno 10 metri l'ho dato nello scritto? No, però lo metterò qua, lo metterò nell'esercizio l'ho già detto diverse volte cos'è un angstrom Quindi immaginate, tanto per fissare l'idea, che voi avete qua qualcosa che è di un centesimo dell'area complessiva della superficie complessiva della sfera Quindi se un joule al secondo sta uscendo dalla sfera quanto tempo dovete aspettare affinché questo accumuli per esempio un joule? Quanto è secondo voi? 100 secondi no? Giusto? Si? Ma l'area dell'atomo di potassio non è un centesimo, è molto 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 più piccolo Voi dovete ragionare come Maxwell e direbbe ok, io so quanta energia sta incidendo qui al secondo, è quella frazione della superficie di una sfera ok, io so quanto sta incidendo al secondo, devo accumulare 2,3 eletronod, il tempo che mi serve per accumulare questo valore e il tempo che devo aspettare affinché riesco a staccare l'elettrone, questo è un conto classico, poi uno va a fare l'esperimento e si legge se fosse piccolo provo a ingrandirlo così riuscite a leggerlo lo leggiamo assieme piuttosto di modificare il file c'è scritto, nota bene, questo esercizio dà un risultato che è in clamoroso disaccordo con l'esperienza clamoroso, sperimentalmente la ionizzazione del potassio avviene solo se l'onda elettromagnetica ha una lunghezza d'onda inferiore a 539 nanometri ed avviene con tempi inferiori a nanosecondo, questa discrepanza mostra la completa e spettacolare inadeguatezza della teoria classica di Maxwell per descrivere correttamente i fenomeni atomici, quindi quando otterrete il numero il numero di secondi che dovete aspettare, vedrete che saranno minuti, ok? minuti non nanosecondi, sono tantissimi ordini di grandezza, cioè questo è un clamoroso errore, suggerimenti per calcolarlo, l'area dell'atomo è solo una piccola frazione dell'area del fronte dell'onda sferica, è piccolino lui, l'atomo è piccolo rispetto al fronte d'onda quindi si può pensare all'onda come un'onda piana, come piana, di nuovo un errore di italiano, l'ho fatto oggi questo, come piana, ok? e talmente, lo mettiamo in visualizzazione un po' più grande il fronte dell'onda sferico è talmente grande rispetto alla dimensione dell'atomo che l'atomo di fatto vede un'onda piana, non vede che in realtà è sferica, quindi usate la formula dell'onda spiana che è questa qua, ok? Questo è il flusso di energia, questo è quanta energia sta attraversando un metro quadro al secondo, questi sono watt al metro quadro, quindi questo numero moltiplicato per l'area dell'atomo vi da quanta energia sta beccando l'atomo al secondo, chiedetemi quanto tempo dovete aspettare per accumulare quella risposta e verrà fuori minuti, centinaia di secondi, ok? Va bene? Allora, questo è Einstein, questo è Maxwell, questo è Planck, Einstein e Planck, questa è la formula di Einstein, diciamo va bene anche in relatività, E uguale a PC, Planck dice che E è uguale alla costante Planck per la frequenza, d'accordo? I numeri sono qui, quindi in realtà i vari fotoni che Einstein ha capito che sono il modo per spiegare l'effetto fotoelettrico, l'effetto fotoelettrico non si può spiegare con onde, si spiega con l'arrivo di singole particelle, particelle di luce chiamate fotoni, e quindi il singolo fotone ha un'energia che è proporzionale alla frequenza, quindi dovete immaginare i fotoni come dei proiettili, è una cattivissima analogia ma può bastare in questo momento, in cui vanno tutti alla velocità c, alla velocità della luce, ma l'energia che trasporta questi proiettili è proporzionale alla frequenza, quindi non tutti i proiettili sono uguali, un proiettili rosso, un fotone rosso e un fotone violetto hanno energie diverse, perché il violetto ha una frequenza maggiore, quindi quando arriva il fotone rosso non ha abbastanza energia per ionizzare l'atomo, invece il fotone violetto porta con sé abbastanza energia per ionizzare l'atomo e la ionizzazione è la conseguenza di un urto tra un fotone e l'elettrone, di un urto e quell'urto avviene praticamente istantaneamente, non è l'accumulo di energia che arriva da un fronte d'onda che più o meno dolcemente è l'energia che viene dal mare e porta energia alla spiaggia, no, sono singoli pugni e il il pugno è più o meno energetico a seconda della frequenza del fotone il pugno rosso è troppo debole, non riesce a staccare l'elettrone e il pugno violetto è sufficiente a staccare l'elettrone e l'elettrone si stacca quando arriva a un pugno, non un'onda e bisogna accumulare e questo è appunto direi di fare una pausa qua e queste cose guardatele, questa formuletta qua, questo voglio raccontarlo brevemente perché non ho nessuna intenzione di farlo adesso nella seconda ora, l'ho fatto all'altro gruppo, c'è un altro problema con la fisica classica, la fisica classica dice se avete un elettrone e lo accelerate emette energia sotto forma di increspatura di onde elettromagnetiche. Allora, Rutherford aveva proposto il modello planetario degli atomi e nel modello planetario avete un elettrone che orbita attorno a un protone nucleare, a un protone che fa da nucleo, ma quale moto accelerato più bello c'è? C'è una continua accelerazione perché è un moto circolare, c'è un'accelerazione centripeta, quindi questo elettrone nel suo accelerare deve emettere onde elettromagnetiche e vi ricordo il java che avevamo fatto dove c'era il moto circolare, vi ricordate le increspature dell'onde, come si propagavano per l'effetto di un moto circolare, riguardatelo. Quindi Maxwell dice ragazzi, questo elettrone nel muoversi in questo modo proposto da Rutherford, l'atomo dovrebbe essere instabile perché perdendo energie l'elettrone dovrebbe spiralizzare fino a cadere sul nucleo come si vede in questo specie di disegno molto schifoso che ho fatto. E quanto tempo impiega per collassare? Allora uno fa un po' il conto, questa è la forza centripeta, questa è la famosa formula del moto circolare, questo è un conto che potremmo fare all'orale perché richiama un sacco di fisica, questa è quindi l'energia cinetica, questa è l'energia scritta in questo modo facendo l'uso di questa formula, l'energia potenziale è questo. Cos'è l'energia meccanica? È la somma dell'energia cinetica più l'energia potenziale, potenziale più cinetica. Vedete fuori questa formula qua, vedete che l'energia meccanica è negativa, cosa vuol dire? Che l'elettrone è legata all'atomo, quella è l'energia, l'energia dello stato legato è negativa. Adesso cosa succede? Qua non sto altro che scrivendo l'accelerazione in termini dell'energia meccanica e altre grandezze, quelle tipiche dell'elettromagnetismo. Quindi uso la formula, l'energia persa per il raggiamento e metto qua l'accelerazione che ho scritto, eccola qua. Quindi uso questa espressione in termini dell'energia meccanica e queste grandezze tipiche dell'elettromagnetismo e la scrivo così. Quindi l'energia di raggiamento, la perdita di energia per l'unità di tempo è questa formula qua, vedete come l'energia meccanica alla quarta c'è un segno meno, perde energia, perde energia. Quindi porto l'energia meccanica alla quarta dall'altra parte e il tempo da qua, se volete sto facendo specie di separazione variabili. Integro di qua, integro di qua. Ok? Questa è l'energia iniziale dell'atomo, l'elettrone sta girando inizialmente e poi ne perde. Perché ne perde? Perché è in raggia, fa le crespature. Quindi calcolo l'integrale sinistra, calcolo che è questa roba qua, vedete che è meno uno su tre, un po' più doppio alla meno tre, questo è l'analisi, e lo pongo questo uguale a questo. Quindi questa roba è uguale a questo, lo metto con i limiti perché va da, vedete, lo stato fondamentale, lo stato finale è che ho staccato l'elettrone, quindi sono all'infinito. Invece lo stato iniziale lui è legato. E questo è uguale all'integrale del tempo. Quindi t è il tempo che l'elettrone impiega per perdere tutta la sua energia per circolare sul nucleo. Fate il conto, mettete dentro dei valori, t, è il tempo uguale a questo po' di roba, viene fuori 10 picosecondi. Guardate il conto con un po' di attenzione, non è difficile, non lo chiederò, però chissà, magari a chi sta lottando o sperando per la roba, perché in fondo c'è tanta fisica qua, è fisica semplice, c'è la formula, c'è questa formula qua che tutti devono sapere, c'è il moto circolare che tutti devono sapere. Perché non posso chiedere questo esercizio? E' una domanda molto legittima. Guardate questo power point per cortesia, ci ho speso non poco ed è una buona parte del programma. Ok? Facciamo una breve pausa di un discrimo. Grazie. 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 Grazie.